Garrison Rochelle perché lo hai fatto? Perché hai lasciato la cattedra di amici? Con questa domanda Silvia Toffanin ha cercato di capire perché il ballerino e coreografo ha voluto dire addio al talent di Maria De Filippi per ritagliarsi un altro ruolo all'interno dello show Alle domande della conduttrice di Verissimo lui ha risposto con sincerità se mi mancano i ragazzi di amici, sì certo ha spiegato a Silvia Toffanin se mi chiamassero tornerai subito Ma è stato giusto lasciare la trasmissione, lo abbiamo deciso insieme con Maria, forse avrei dovuto farlo due anni prima, ma non ero ancora pronto Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione, il suo addio al serale non è stato però una rottura con Maria De Filippi Con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ci conosciamo da più di 25 anni, lei è la mia regina, sorride il ballerino e coreografo statunitense molto impegnato nel sociale Mi verrebbe voglia di diventare padre ha commentato ma a 63 anni sarebbe un'assurdità, almeno per me, provare a crescere un bambino piccolo Per questo ho deciso di aiutare gli orfani Les block ads, why?